Bartoni, cucine e living. Distinguersi con stile, scegliendo la qualità del made in Italy al miglior prezzo. Cucine e aria giorno. Statale 101 Lecce Gallipoli, zona industriale Lequile. Telefono 0832 26 30 35. Bartoni, cucine e living. Il made in Italy al prezzo migliore. Tenta di uccidere il figlio, arrestato. Pestorce denaro e genitori per lui scattano le manette. Chi non muore si rivede il giorno dopo. Francesca Nicolì, un successo il suo concerto a San Pietro in Lama. Lecce, da stasera tutti in ritiro. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. Abbiamo con una notizia di cronaca. Un 41enne di Lizzanello, tossicodipendente, da tempo minacciava i genitori che ieri hanno avuto il coraggio di richiedere l'intervento dei militari. Ora si trova in carcere per estorsione. Ascoltiamo il servizio di Miriam Gabellò. Una vicenda che va avanti da molto tempo e che ieri sera si è finalmente conclusa con l'arresto di Antonio Nuzzaci, 41enne di Lizzanello Macellaio, responsabile di estorsione nei confronti dei suoi genitori. L'uomo con problemi di tossicodipendenza aveva iniziato a minacciare gli anziani genitori con i quali viveva di farsi consegnare ogni giorno dei soldi. Le due vittime non avevano alternativa o assecondavano le continue richieste del figlio o erano costretti a subire minacce percosse e ad assistere ai danneggiamenti in casa, frutto dell'ira del figlio. Di fronte a tanta rabbia e violenza i genitori non hanno mai avuto la forza di contrastarlo, di ribellarsi e quindi pagavano quotidianamente. Dopo l'ennesima lite tra le mura domestiche ieri mattina si è verificato un episodio ancora più grave. Antonio Nuzzaci ha iniziato a minacciarli per avere 50 euro, subito dopo si è allontanato da casa. Ma al suo rientro, dinanzi alle resistenze dei due pensionati, la sua rabbia lo ha indotto a spaccare una bottiglia di vetro e a puntarla contro la madre e il padre, che anche in questa circostanza sono stati costretti a sottostare e a consegnargli i soldi. Subito dopo però, stanchi e impauriti, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri di Rizzanello, a cui hanno spiegato nei minimi particolari la gravità dell'accaduto. I militari hanno iniziato così le indagini, volte alla ricerca dell'uomo e ad accertare la versione fornita loro dai genitori del 41enne. In serata Antonio Nuzzaci è stato rintracciato ed arrestato per estorsione. Ancora cronaca, dovrà scontare 4 anni e 6 mesi in carcere il 73enne di Galatone, che ha tentato di uccidere suo figlio applicando fuoco a delle bombole di GPL collocate nella propria abitazione. Andrea Franchini. Tentato omicidio e questo è il reato contestato di un uomo di Galatone, 73enne, arrestato dai carabinieri della locale stazione ieri sera a seguito della notifica di un ordine di esecuzione per la carcerazione messa dalla Procura della Repubblica di Lecce. Dovrà scontare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per aver cercato di uccidere il figlio, accettando senza riserve anche il rischio di provocare il decesso dei sei nipoti. Il fatto risale al 14 gennaio 2005, quando l'uomo ha collocato in corrispondenza del vano Scala all'interno della sua residenza due bidoni metallici contenenti GPL, a cui avrebbe dato fuoco al fine di provocare il crollo dell'abitazione e la morte dei suoi familiari. Per fortuna il suo intento non andò a buon fine per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Dalle bombole infatti si sprigionarono violente fiamme che provocarono un intenso rumore al punto tale da svegliare uno dei figli che chiamò immediatamente i vigili del fuoco. Spente le fiamme, ancora in atto al loro arrivo, sono stati scongiurati anche lo scoppio delle bombole e il crollo dell'abitazione. Cambiamo argomento, passiamo alla politica. Questa mattina a Palazzo Carafa si è parlato di alcune criticità nelle periferie leccesi con i rispettivi presidenti di quartiere. Durante la conferenza spazio anche alla promozione di nuovi eventi estivi. Ascoltiamo. Un incontro per discutere delle criticità vigenti all'interno delle periferie leccesi con relative proposte di soluzione. Ma non solo. Nell'occasione si è parlato anche di un'iniziativa legata agli eventi promossi dai quartieri di Lecce al via questa sera in piazza Tafuro con inizio ore 21. Proprio per tale motivo nella sala giunta di Palazzo Carafa c'erano i presidenti circoscrizionali Mariangela De Carlo, Fabio Campobasso, Pasquale Sicuro e Carmelo Isola. Dall'esito della riunione sono emersi dei disagi che, a detta degli stessi presidenti di circoscrizione, potrebbero perfettamente essere evitati. Lecce è una città a piena vocazione turistica, pertanto temi come ambiente e pubblica sicurezza dovrebbero presentare soluzioni immediate. Esempio. La pattuglia di quartiere che ricopriva l'intero territorio circoscrizionale dopo i successi e gli ottimi risultati di prevenzione ha terminato il suo compito. Morale della favola. C'è bisogno di una comunicazione più frequente tra sindaco, circoscrizioni, dirigenti e amministratori comunali affinché le piccole problematiche, dalla toponomastica delle vie alla striscia bianca sul selciato e alla buca sul marciapiede, siano meglio affrontate nell'interesse della cittadinanza leccese. A Palazzo d'Orno presentata una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa dall'Associazione Culturale Campus Giovani Novoli. I dettagli nel prossimo servizio. Nell'ambito del progetto del Ministero degli Interni denominato Icaro, l'Associazione Culturale Campus Giovani di Novoli propone ai soggetti interessati, provincia di Lecce e comuni del Salento, una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sull'importante tema della sicurezza stradale. Il progetto Icaro nasce per diffondere tra adolescenti e giovani la cultura della sicurezza su strada cercando di modificare mentalità e comportamenti spesso pericolosi. Da evidenziare che l'iniziativa nasce nel 2010 con lo slogan studiato da Mingo e Pasquale storico inviato del Tg Satirico strisce la notizia e testimonial dell'Associazione Campus Giovani intitolato La vita non è uno scherzo, prendila sul serio. Campagna anch'essa patrocinata dalla provincia di Lecce, assessorato alla mobilità. Nel 2011, oggi, il nuovo slogan e la nuova campagna si intitola Chi non muore si rivede il giorno dopo. Anche quest'anno, come l'anno scorso, l'impegno sulla sicurezza stradale, poi l'estate sapete come vanno le cose. Quest'anno ci siamo inventati uno slogan un po' diverso, più alla portata di tutti ed è un luogo comune perché dice Chi non muore si rivede, puntini puntini, il giorno dopo. Quindi è una classica frase che si usa nel quotidiano. Forse per questo può funzionare perché se diventa un piccolo tormentone, siccome non vogliamo assolutamente avere la presunzione di poter cambiare il corso degli eventi, però già il fatto di sensibilizzare, di vedere uno slogan, di parlarne, di vedere un manifesto per strada è comunque essere sull'argomento, che è sempre meglio che non esserci. Grande successo di pubblico a San Pietro in Lama per il concerto tenuto da Francesca Nicolì assieme alla cover band di Vasco Rossi, i Vasco Live. Ascoltiamo il servizio di Miriam Gabellone. L'abbiamo conosciuta in televisione al talent show Amici di Maria De Filippi su Canale 5 sin dalla sua prima apparizione in tv, è stato impossibile non ricordarla. Grintosa, estroversa, determinata e tenace, Francesca Nicolì ha dimostrato di avere straordinarie doti canore e una forte presenza scenica. Non a caso è arrivata ad un passo dalla finale e ha ottenuto importanti soddisfazioni non solo in Italia. E dal piccolo schermo è approdata nella sua San Pietro in Lama, dove si esibita in concerto in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Pietro Apostolo. Sono molto contenta di essere qui stasera perché per me è un onore cantare nel paese dove sono nata, dove sono cresciuta, dove continuo a crescere. Io devo esprimere una grande soddisfazione per l'organizzazione proprio di questa festa. Un grazie va sicuramente al neocomitato festa che si è costituito attorno a una base che c'era già negli anni scorsi e che hanno collaborato in maniera intensa e con grande impegno per regalarci questa festa piena di eventi civili e religiosi. Una serata ricca di emozioni, quella sponsorizzata da McDonald's. A salire sul palco intorno alle 22, prima i Vasco Live, cover band di Antonio Toma, che hanno riproposto i brani del celebre cantante rock Vasco Rossi. Da Alba Chiara è colpa di Alfredo, poi alle 23 un'esplosione di applausi e grida per la neostar di San Pietro, Checca Nicolì. Per lei oltre 2000 fan hanno invaso il paese del Salento, hanno cantato le sue canzoni, quelle che l'hanno resa famosa e che ne hanno determinato il suo successo. Un bel ritorno a casa insomma per la 18enne piena di talento e desiderosa di trasmettere sempre le sue emozioni attraverso il canto. E' giunto alla sua settima edizione il festival della canzone d'autore premio Mauro Carratta, sabato 16 luglio, spazio alla musica ad Ugento. Miriam Gabellone. La musica è il linguaggio del cuore, è sensibilità, emozione, passione e voglia di vivere. Con queste parole Fernando e Maria Rita Carratta, genitori di Mauro e promotori del festival della canzone d'autore premio Mauro Carratta, hanno spiegato l'importanza che riveste l'iniziativa, non solo perché è dedicata al figlio, ma perché rappresenta un'opportunità per tanti giovani artisti che intendono affacciarsi al mondo della musica. Sabato 16 luglio sarà la splendida piazza San Vincenzo di Ugento ad ospitare il festival targato Made in Salento, un progetto di laboratorio musicale e artistico all'insegna della creatività e dell'originalità. 12 i finalisti che saliranno sul palco e che si esibiranno dal vivo con i loro brani inediti, valutati poi da una giuria di qualità, composta da famosi artisti, produttori, giornalisti, musicisti e professionisti del settore. Presenti in conferenza stampa, oltre ai promotori del festival, anche il direttore artistico Stefano Sergio Schiattone e l'assessore al marketing territoriale della provincia Francesco Pacella, che ha sottolineato l'importanza dell'evento per la promozione del nostro territorio. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. E concludiamo come sempre con lo sport, si complica l'arrivo di Leandro Greco a Lecce, questa sera intanto i giocatori si ritroveranno a Tarvisio, assente Shevanton, ci saranno però Diamutene e Mesba, il punto con Luigi Taurino. Sono 23 i giocatori convocati dai mister di Francesco che questa sera si ritroveranno all'ottespa Artiacque di Tarvisio per dare il via al ritiro precampionato. Tra loro manca l'attaccante Shevanton, mentre figurano il difensore Diamutene e il centrocampista Jamel Mesba. Sul fronte mercato, il Lecce ha il problema di trovare un portiere, che dovrà necessariamente arrivare in prestito. Al DS Osti piace Giulio Sergio e sta trattando con la Roma, il brasiliano però sembra sia seguito anche dalla Sampdoria. Altri due estremi difensori che piacciono sono Manninger e Pugioni. Sul secondo però le difficoltà sono di carattere economiche, visto che il presidente della regina Foti vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito. La trattativa, che sembrava essere indirittura d'arrivo per Leandro Greco, sembra essere rallentata. Così gli sforzi della società pugliese si stanno concentrando per arrivare al centrocampista dell'Udinese, Cristiano Bodo. I friulani sarebbero risposti a cederlo in prestito. L'unico nodo per la buona riuscita della negoziazione risiederebbe nell'altra cifra dell'ingaggio. Trovano sempre più fondamente rumors che avrebbero individuato in Guillermo Burdisso il rinforzo per la difesa giallorossa. Il calciatore argentino, fratello d'arte, potrebbe riscattarsi da una prima stagione deludente nel nostro campionato alla Roma, ma soprattutto avrebbe la possibilità di giocare con continuità. C'è da battere ad ogni modo la concorrenza della Sampdoria, decisa di rinforzare al meglio la rosa per tornare subito nella massima serie. E anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.